Eeeh, abbiamo vinto, sì, abbiamo vinto, sì Sì signori, Pordenone batte Virtus Entella 1-0 a Chiavari Molto bene, sono proprio contento, sono proprio contento perché abbiamo vinto questa partita Non mi interessava nulla, cioè l'importante era vincere, basta, ovvio Il risultato è 1-0, molto risicato, però analizziamo un attimo la partita Allora pronti via, calcio di rigore per il Pordenone Io lì per lì quando ho visto ho detto, rigore, oddio, sì, che fortuna Poi alla fine ho visto, sì, ci sta proprio trattenuto per più tempo Quindi ci può anche stare il calcio di rigore, sinceramente Dopo mi sono piaciuti principalmente, poi vabbè è uscito fuori Lentella Perché dalla sua situazione, che se Lentella è veramente ultimo in classifica Dove per forza, è andato anche in Riti, dove per forza fare bene, no? Gioca in casa, deve dare il massimo E ha fatto anche una buona prestazione, secondo me Però noi ci siamo chiusi tanto, è una partita molto difensiva del Pordenone Con i contropiedi E con delle azioni, appunto, i contropiedi da parte del Pordenone Sia nel primo che nel secondo tempo Principalmente mi è piaciuto, soprattutto in questa azione di contropiedi Ciurria, che veramente saltava l'uomo con molta facilità Anche Dio è uno molto bravo a portare sul pallone, salire, correre veloce Perché anche fisico Però particolarmente mi è piaciuto Ciurria, proprio mi è dispiaciuto Soprattutto nel secondo tempo, quando ho preso anche il palo Che ho detto, cavolo, cioè proprio, non so Mi sarebbe piaciuto per lui che segnasse, ecco Anche le altre partite da sempre molto Ciurria Insomma mi piacerebbe che anche lui trovasse il gol Di nuovo E mi è piaciuto anche quando Manino è stato spostato nel secondo tempo A compiere il ruolo di terzino destro Ha fatto veramente bene Anche lui ha fatto un tiro e ha rischiato di segnare Questa è una munizione a schiavone che non l'ho capita sinceramente Però in generale, vabbè, la presa è stata abbastanza corretta Sì, è stata una partita molto difensiva da parte del Pordenone E ha intanto qualche contropiede Mentre Lentella doveva assolutamente provare a fare gol E provare a trovare il pareggio Giusto per avere un risultato utile Dopo ogni tanto, insomma, muovere un po' la classifica Non c'era riuscita con noi, per fortuna Vi auguro di fare punti con altre persone, con altre squadre E mi dispi... Cioè, sono contento perché il Pordenone ha fatto una... Alla fine ha vinto Non è stata una prestazione fantastica Però l'importante era vincere Ecco, buona, una buona prestazione difensiva, possiamo dire Naturalmente con la Cremonese non credo che basterà solo questo Almeno, spero che ci sia qualcosa di più Il problema del Pordenone rimane quello che concretizza poco Le azioni che crea Rispetto alle azioni che crea che concretizza poco E segniamo abbastanza poco, esatto Quindi dovremmo provare a fare più gol Leggevo che rispetto all'anno scorso mancano i gol dei centrocampisti Dal messaggero Veneto leggevo E infatti effettivamente è vero Mancano i gol dei centrocampisti Perché alla fine hanno segnato molto di più gli attaccanti Però i centrocampisti mancano gli inserimenti I gol come potevano essere l'anno scorso per esempio di Pobega Ma lo stesso Mazzocco Erano anche molto... E Gavazzi, vabbè, Gavazzi Considerato il centrocampista Gavazzi si sente la mancanza a questo punto di vista Però, vabbè, abbiamo trovato gli attaccanti Che l'anno scorso magari segnavano un po' di meno Rispetto a magari un strizzolo L'anno scorso un candellone Facevano molti meno gol Rispetto di O adesso Anche lo stesso Nusolic segna abbastanza Quindi manca un po' il gol dei centrocampisti Però devo dire che tutto sommato Oggi sono contento per questa vittoria Speriamo di fare bene anche la prossima E di vinci e dare un po' di continuità ai risultati E di risalire in classifica E entrare finalmente in zona playoff E di rimanerci fino alla fine del campionato Bene ragazzi, ci termina quel video Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti